Mi piace andare al mare. Ci piacciono le vacanze. Mi piacciono i concerti. Gli piace giocare a calcio. Sabato le piace fare spese. Le piacciono le lasagne. Gli piace il gelato blu. So che vi piace il pesce. Gli piace mangiare fuori. Gli piacciono le banane. A volte ci piace viaggiare. Mi piace tanto sciare. Mi piace la cucina asiatica. Ci piace andare al cinema. Mi piace andare in bicicletta. Mi piacciono le biciclette. Mi piace anche l'altro. Mi piace il giro. Mi piace anche il freddo. Mi piace anche i gatti. Mi piace molto camminare. Mi piace molto camminare. Le piacciono molto le novità. Tu ti sbagli a dire questo. Mio nipote si laurea quest'anno. Nostro padre si fa la barba. Voi vi specchiate continuamente. Noi ci vestiamo in modo elegante. Voi vi bagnate sotto la pioggia. Claudia si pettina i capelli. Noi ci ricordiamo le nostre vacanze. I miei vicini si godono il panorama. Stasera addormentati presto. Tu ti diverti molto con gli amici. Per nuotare mettiti la cuffia. Io mi lavo i capelli ogni mattina. Tu e Luca vi sentite ogni sera. La mia amica si chiama Laura. I miei nonni si alzano alle 6. Tua mamma si arrabbia spesso. Voi vi svegliate troppo tardi. Voi vi svegliate troppo tardi. Ho conosciuto il padre di Giorgia. Matteo è un dottore molto bravo. Matteo è il mio dottore da anni. Il mio professore è giovanissimo. C'è un gatto sul marciapiede. C'è il gatto di Ilaria sul prato. Ho trovato un paio di pantaloni. Claudia ha trovato un vestito. Abbiamo preso il nuovo telefono. Ho preso un brutto voto a scuola. Hai ottenuto il voto migliore. Luca è il più simpatico a scuola. Ho avuto una bellissima idea. Il medico è stato intervistato. Penso che lui sia innocente. So che non puoi andare a Pisa. Temo che tu perdi l'autobus. Aspetto che il mio amico venga. Non so se il mio amico viene. Ho capito che oggi non piove. Ti ho detto quando esco di casa. Voglio che tu vada a scuola. Non sappiamo dove sia Luigi. Non sappiamo quanto ci voglia. Me lo dici quando hai fatto. Se ci vado, venite anche voi. So che tu hai finito per oggi. Gli chiedo se sa qualcosa. Non so dove siano i miei gatti. Devo andare al bagno. Ho il biglietto nella borsa. Noi lo teniamo in tasca. Luca lo cerca sotto il sedile. Forse lo ha perso al bar. Il treno viaggia sui binari. Noi scendiamo dal treno. Il treno va a Palermo. Palermo è in Sicilia. Io viaggio in macchina. Alcuni stanno in piedi. Nessuno sta nei corridoi. Altri siedono nelle stanze. Noi camminiamo sul ponte. Voglio uscire di casa. Sono laureato in medicina. Noi lo sappiamo da poco. Luca ci chiede di aiutarlo. Puoi dirlo a tua mamma. L'auto viaggia sull'asfalto. Noi saliamo sulla bicicletta. Carlo è nato a Milano. In Italia. È italiano. Abito ad Atene. In Grecia. Sono greca. Luca non è tedesco, ma va a Bonn, in Germania. Lui viene da Londra, in Inghilterra. È inglese. Claudia è di Parigi. In Francia. È francese. Roberto è di Berna. In Svizzera. È svizzero. Lidia abita ad Algeri, ma non è algerina. Chi è nato a Palermo è un palermitano. Chi è nato a Firenze è fiorentino. Sua zia è giapponese. Viene da Tokyo. Carlo è di Milano e lavora in Svizzera. Mario viene da Firenze. In Toscana. È toscano. Claudia abita a Madrid. In Spagna. È spagnola. La Germania è in Europa. È un paese europeo. Trovate la risposta tra le proposte. Abito a Bruxelles da dieci anni. Bruxelles si trova in Belgio. Hai accettato di venire a casa mia? Lo rivedo sempre con gran piacere. Questo è un fazzoletto di seta blu. Laura, ti diamo il benvenuto tra noi. Fate una ricerca sui giornali. Bevono un caffè e parlano tra loro. Grazie per la tua collaborazione. Lisa vive con i suoi genitori. Prendo una pillola per il mal di testa. Lo zio viene stasera tra le otto e le nove. Sono in biblioteca fino a tardi. Io apro la finestra. Io ho aperto la finestra. Tu bevi l'espresso. Tu hai bevuto l'espresso. Marco chiede qualcosa. Marco ha chiesto qualcosa. Quando chiudono? Quando hanno chiuso? A chi dai la rivista? A chi hai dato la rivista? Voi non decidete? Voi non avete deciso? Anche lui dice la verità. Anche lui ha detto la verità. Loro sono in Italia. Loro sono stati in Italia. Che tempo fa? Che tempo ha fatto? Che cosa leggi? Che cosa hai letto? Dove metti quel libro? Dove hai messo quel libro? Chi perde spesso? Chi ha perso spesso? Cosa prendete voi? Cosa avete preso voi? Quale scegli, Maria? Quale hai scelto, Maria? A che ora scendono? A che ora sono scesi? A chi scrivete? A chi avete scritto? Io sto in casa. Io sono stato in casa. Vedo i miei amici. Ho visto i miei amici. A che ora vengono? A che ora sono venuti? Dopo cena bevo il caffè. Dopo cena ho bevuto il caffè. Porto io i biscotti. Ho portato io i biscotti. Leggere. Io ho letto. Mettere. Tu hai messo. Rimanere. Lui è rimasto. Bere. Lei ha bevuto. Dare. Voi avete dato. Tradurre. Lui ha tradotto. Fare. Loro hanno fatto. Soffrire. Io ho sofferto. Vincere. Tu hai vinto. Scrivere. Lui ha scritto. Ridere. Lei ha riso. Nascere. Voi siete nati. Perdere. Lui ha perso. Dividere. Loro hanno diviso. Aprire. Io ho aperto. Scendere. Tu sei sceso. Riflettere. Lui ha riflettuto. Offrire. Lei ha offerto. Correre. Voi avete corso. Spingere. Spingere. Lui ha spinto. Volare. Loro hanno volato. Andare. Io sono andato. Venire. Tu sei venuto. Vivere. Lui ha vissuto. Credere. Lei ha creduto. Partire. Voi siete partiti. Tornare. Lui è tornato. Vedere. Loro l'hanno visto. Non c'è più pasta in cucina? C'è qualcuno che mi accompagna? I miei amici ci sono ancora o sono via? Non c'è più acqua nel bicchiere. C'è un cane che abbaia in giardino. Ci sono dei bambini in mezzo alla strada. Ci sono molte persone egoiste. C'è ancora molta strada da fare. Non c'è più pane. Bisogna comprarlo. Ci sono le pesche. Le vuoi? Nel bosco c'è una piccola casa. Sul tavolo c'è un quaderno. Sul letto ci sono due magliette. Sotto il tavolo c'è un gatto. Accanto alla farmacia c'è un bar. Ci sono due mie amiche su quel prato. Non c'è più posto per noi. Ci sono tutti i nostri amici. Guarda, c'è un ragno. C'è una persona che ti cerca. Dove c'è un parcheggio? C'è un'altra cosa. Il c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Grazie a tutti